Il Paglio Città della Quercia è la più antica manifestazione di atletica leggera in Italia e forse nel mondo. Regupol è stata scelta nel 2019 per rinnovare la pista di atletica dello stadio. Le piste Regupol sono state installate in tutta Italia e nel mondo. Le pavimentazioni Regupol sono apprezzate e riconosciute per prestazioni, sostenibilità e facilità di manutenzione. Dagli sport per il tempo libero all'atletica di livello mondiale ci pensiamo noi di Regupol. Grazie per la visione!